Qui vi presentiamo le 5 migliori rubinetti per lavello da cucina. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Uome Rubinetto Estraibile 360 Girevole Multifunzione Miscelatore Monocomando. Questo rubinetto è realizzato per garantire il massimo confort di utilizzo oltre che funzionalità. L'acqua defluisce con cautela, senza provocare fastidiosi spruzzi. In questo modo è inoltre meno complicato pulire il lavello da eventuali depositi di cautare. C'è un pulsante per cambiare l'acqua. Facile da usare, è dotato di una cartuccia in ceramica che rende semplice l'apertura o l'arresto del fattore. Passando al numero 4. Tapge professionale rubinetto della lavabo cucinabagno miscelatore monocomando doccetta. Grazie alla sua struttura in ottone, garantisce un'elevata resistenza. La superficie è invece in acciaio pulito, liscio, di classe e anche lucido, molto facile da mettere in ordine. Resistente al caldo, anti-rugine, anti-impronte digitali e anche anti-corrosione. È stato creato per ridurre al minimo il rumore del flusso d'acqua, può aiutare a ridurre l'assunzione di acqua, rendendo l'acqua muore per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Auralum 360 di rotazione miscelatore cucina rubinetto della cucina. Realizzato in ottone massiccio, questo rubinetto cromato può essere totalmente ruotato di 360, per raggiungere ogni angolo del lavello con il suo oggetto. Pulire le verdure o pulire i pasti finisce per essere effettivamente attivo. Ha un collegamento adattabile e offre la massima praticità con il minimo di iniziativa, consentendo all'istanza di passare senza restrizioni da una... Almostat è top of our list at number 2. Ava, Ion Spring Nickel Rubinetto Miscelatore da Cucina. Questo sofisticato rubinetto si integra armoniosamente con cucine di qualsiasi tipo di design, sia tradizionali che contemporanei. È realizzato con canna flessibile e docetta anche estraibile, che permette al getto d'acqua di raggiungere qualsiasi punto del lavarlo. L'aeratore è prodotto in Germania ed è completo con funzione di disinfrostazione e risparmio idrico integrate. All'interno, il miscelatore ha una cartuccia in ceramica a lunga durata con funzione di risparmio idrico. C'è un unico controllo per un controllo regolare e accurato sia del livello di temperatura che della circolazione. E infine il numero 1 della nostra lista. Papoli Rubinetto per Lavelli da Cucina Miscelatore Cucina Rubinetto Lavello. Si sviluppa con due uscite una di tipo standard e una con doccia estraibile. Ha un tipico ingresso da 3 o 8 di pollice e inoltre si monta facilmente anche senza richiedere l'intervento di un installatore specializzato. È molto pratico, grazie al fatto che il suo braccio può ruotare interamente di 360 così facendo è possibile guidare la circolazione dell'acqua in qualsiasi punto del lavello. Facile da pulire, viene fornito con una cartuccia in ceramica di A per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.